Ci sono momenti in cui ognuno di noi è coinvolto. Le conseguenze del Covid riguardano tutti, ogni giorno di più. E chi si trova ad avere bisogno spesso vive intorno a noi, perché la pandemia è anche emergenza alimentare. Per non dimenticare chi ora vive questa difficoltà, visita bancoalimentare.it. Dona un pasto e alimenta la speranza. È un'iniziativa Banco Alimentare, in collaborazione con MediAvents.